L'ultima volta che si è parlato dell'ospedale di Castrovillari è stata quando il Consiglio Comunale è intervenuto sulla questione del rischio chiusura in cui si trova. E l'ultima volta che la politica ha camminato per i corridoi del Ferrari è stata quando il ministro Lorenzin ha visitato la struttura ospedaliera. Ci vuole un lavoro quotidiano per risollevare le sorti della sanità calabrese, aveva affermato il ministro lo scorso dicembre, ma da allora nulla è cambiato. A scendere in piazza ci hanno pensato i 5 Stelle insieme al neodeputato Massimo Misiti, che nonostante avessero organizzato una manifestazione in difesa del diritto alla salute e quindi priva di colore politico, hanno registrato una scarsissima partecipazione del territorio. Questo è stato il mio rammarico, il rammarico di tutti noi. A noi interessava essere da pungolo alla cittadinanza, non era una manifestazione organizzata dai 5 Stelle per il 5 Stelle, era una manifestazione organizzata dai 5 Stelle per la cittadinanza. È vero, la partecipazione è stata poca da parte del territorio, speriamo che venga però recepita come pungolo e che venga capito lo stimolo che è stato dato dal Movimento 5 Stelle a che si lavori in maniera comune per un buon accesso alla salute. Noi non facciamo le passeggiate turistiche negli ospedali per vedere se i muri sono colorati e se vanno bene. Noi vogliamo che gli ospedali siano funzionali e funzionanti, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo visto che c'è la buona volontà, c'è la voglia di far bene, ma per far questo bisogna che ci siano tutte le regole, che devono essere seguite tutte le regole. Tutte le strutture, tutte le attrezzature devono avere una funzionalità e permettere ai cittadini di usufruire di un buon servizio. Un buon accesso alla salute significa avere la possibilità di curarsi in Calabria, vuol dire evitare l'ammigrazione sanitaria, vuol dire dare la possibilità al cittadino di curarsi nel posto in cui è data a lui la possibilità di avere una buona prestazione medica.